Buongiorno, benvenuto alla medicina scolastica e alla professoressa, per cui c'è un classico provinciale di imparamento, forti saluti anche al ricerche da parte del Consigliere, grazie per il vostro appuntamento per solo fare, per oggi doveri ragazzi di solo fare, come diceva lei, rappresentano il futuro ed è importante con questo interesse. Voglio essere previ, faccio un saluto dal Sindaco Junior, Chiara, tutti i consiglieri eretti nelle abitazioni che hanno fatto presso le scuole medie e un altro saluto allo Presidente del Consiglio Comunale Traia e raggiunta che sono i ruoli fondamentali insieme agli altri consiglieri e tutto il Consiglio Junior. E un saluto lo faccio ai genitori e ai parenti dei consiglieri presenti e ai ragazzi che portano i saluti a casa, ai genitori e ai familiari che sono sempre sicuramente di lavoro. Bene, un auguro che questa esperienza sia positiva e formativa per tutti voi. Grazie.